Inaugurata al Museo Gracco di Pompei la prima mostra collettiva degli amici di Informarte. Un'esposizione senz'altro particolare con tecniche innovative. Fino al 31 luglio infatti si potranno ammirare le stampe in digitale delle opere originali. Una tecnica nuova per avvicinare anche artisti che logisticamente sono dall'altra parte del mondo. L'idea è questa, il fatto di poter portare persone e artisti lontanissimi da Pompei dove ci troviamo adesso a Museo Gracco. Magari abbiamo artisti di New York, artisti svizzeri. In pochi attimi loro hanno inviato il file e noi l'abbiamo ristampato qui in loco a Pompei e l'abbiamo riproposto in mostra. Quindi dal digitale, dal virtuale l'abbiamo fatto ricreare qui sul posto per mostrarlo ai visitatori di Pompei. È una novità questa di utilizzare il web, la nuova comunicazione e applicarlo ovviamente anche all'arte. Uno degli ambiti culturali, uno dei più importanti dal momento che si lavora proprio sull'immagine che è un mezzo di espressione immediato. E quindi questo nuovo, una sperimentazione importante proprio presente al Museo Gracco. E che rende in questo modo l'arte più fruibile forse? Sì, più fruibile perché più facilmente, chiaramente si può accedere facilmente alle opere d'arte anche attraverso appunto la possibilità del web e di informarte che è appunto promosso e curato questa iniziativa.